Follia a lama, borgata di Taranto, nella tarda serata di giovedì 20 luglio. Un uomo di 36 anni, titolare di un distributore H24, è stato accoltellato proprio nei pressi della sua attività commerciale. Ora è in prognosi riservata, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Stando a quanto si è appreso, è stato ferito con tre fendenti alla parte sinistra dell'addome. Trasportato con urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, le sue condizioni sono state definite subito critiche. L'aggressione è avvenuta in contrada a battaglia, poco prima della mezzanotte. Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche tre volanti della Polizia di Stato, della Questura di Taranto e gli uomini della squadra mobile. Si indaga per risalire all'autore al movente. La Polizia ha visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona del ferimento e sarebbe già sulle tracce del presunto autore. Non si esclude nessuna ipotesi dalla lite finita nel sangue, quella più accreditata al tentativo di rapina.